ciao a tutti io sono nell'ilfa e oggi mi trovo ancora sul new world oggi vi spiegherò come riuscire a creare l'olio di pesce come prima cosa ragazzi dobbiamo procurarci l'ingrediente principale ossia il pesce quindi se non sapete come riuscire a pescare ho fatto una guida per voi che vi spiega passo a passo come andare a appunto pescare una volta che abbiamo pescato dobbiamo semplicemente aprire il nostro inventario cliccare sul pesce e fare recupera quindi per poter fare il recupero dobbiamo selezionare il tasto s e poi il tasto sinistro del mouse vedete qui uscirà fuori recupera recuperando questo oggetto quindi il pesce potrai avere degli oggetti aggiuntivi allora andiamo a vedere e fare poi conferma ok a questo punto abbiamo pulito il nostro pesce vedete e abbiamo questo qui dunque allora a questo punto abbiamo ottenuto il filetto di pesce che poi sarà utilizzato anche in cucina per alcune ricette ottenere l'olio di pesce è una cosa abbastanza rara quindi questo si tratta di un ingrediente raro quindi dovete avere un quantitativo di pesce abbastanza alto in modo da aumentare la probabilità di ottenere appunto l'olio proviamo anche sopra la vongola vediamo cosa esce fuori per curiosità quindi tasto s più tasto sinistro lo andiamo a recuperare vedete che mi ha dato anche addirittura alla vongola poi sarà anche utilizzata come esca buono e quindi a questo punto la vongola da soltanto cioè togliamo il guscio e ci darà però quattro ben quattro esche di vongola e adesso io non ho tanti pesci da poter fare questo tipo di opzione però è molto semplice il meccanismo praticamente dovete semplicemente andare a distruggere o pulire meglio così il pesce e con una bassissima probabilità otterrete l'olio di pesce ragazzi spero di essere stata chiara per questo video è tutto vi ringrazio se avete delle domande come sempre vi chiedo di farle qui sotto nei commenti naturalmente per nuove guide quando uscirà definitivamente questo gioco vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate tutte le campanelle ciao a tutti e alla prossima grazie a tutti